Allora, ascoltatemi bene, oggi è 2 agosto, quindi siamo in piena estate e questo è un video rivolto solo ed esclusivamente alle donne che risiedono in provincia di Lecce, oppure alle turiste donne che si trovano in questo momento in provincia di Lecce. Non assoluto uomini offroci. Io ho voglia di fare sesso, ho voglia di fare sesso in maniera proprio sproporzionata, sono automunito e niente, io cerco donne molto porche, molto disinibite, fidanzate, sposate, maiale, monelle, tutte le genere di donne che ci sono sul mercato, ecco. E niente, le sto cercando, le sto cercando. Come dovete essere? Beh, dovete essere formose, bocca carnosa, una bella quarta, una bella quinta, molto porche, molto disinibite, capelli ondulati o lisci, occhi verdi, insomma, questo è il genere di donna che io preferisco. La figa depilata e dovete praticamente saziarmi a letto. Tutto qui, tutto qui. Spero di essere stato chiaro. Fatevi sentire e io vi aspetto. Ciao.